Ciao a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianco Nero Man e benvenuti in questo mio nuovo video di giornata Allora ragazzuoli, ho come l'impressione che ci aspetta una settimana di quelle veramente veramente toste Ma non sul campo eh, parlo all'anno di polemiche, arriveremo la domenica prossima che ci triteranno i coglioni ancora con sta storia del gol di quadrado e del rigore e quant'altro Però nel frattempo mi piace sottolineare come se domenica prossima il Milan non dovesse vincere a Bergamo e noi dovremmo qualificarci in Champions, dovessimo qualificarci in Champions E' colpa di Calvarese, sarà solo colpa di Calvarese ragazzi, no? E' colpa di Calvarese se il Milan ieri pareggia in casa con una squadra che già salva E' colpa di Calvarese se il Milan qualche domenica fa perde alla Spezia E' colpa di Calvarese se il Milan qualche domenica fa pareggia a Parma contro una squadra che ha fatto neanche 30 punti quest'anno E' colpa di Calvarese se il Milan perde casa con Sassuolo E' sempre colpa di Calvarese, se il Milan non andrà in Champions sarà solo colpa di Calvarese che ci ha dato un rigore 94esimo Ok? Che era, ok era dubbio, però ha espulso Bentancur giustamente perché l'espulso di Bentancur è giusta Lasciandoci in 10 contro 11 per quasi 40 minuti contro l'Inter Ha dato un rigore inventato all'Otaro Martinez perché si è buttato, però questo no, questo passa in sordina, no? Come passano in sordina i tre rigori che ci mancano in due partite contro il Benevento Questi non contano niente per la Champions, per la Costa Champions Questi non contano nulla, no? Vero? Questi non contano nulla perché di questi qui non si parla più Perché mo' fino a domenica si parlerà solo di quadrato Attenzione ragazzi, attenzione perché io non vorrei che adesso domenica Domenica questa storia qua ce la fanno pagare a Bologna Attenzione, attenzione Io a questa cosa non voglio neanche pensarci perché io credo sempre alla buona fede degli arbitri Per oltretarci così le palle adesso perché questo cazzo di Calvarese Veramente milionisti, cioè ieri dovevate battere in casa una squadra che era già salva Era già salva, non dovevo chiedere niente al vostro campionato Prendetemelo con i vostri giocatori, prendetela Che in 90 minuti contro il Cagliari non hanno creato un'azione da golle E Donnarumma vi ha salvato il culo più di una volta con due o tre miracoli Tanto criticato Donnarumma che si è andato ad acchiappare a Milionello per bastonarlo Ieri vi ha salvato il culo in quella partita Capito? Quindi prima di parlare ragionate E fate mia colpa, come farò io mia colpa se non andiamo in Champions Che ho fatto un punto sul secolo benevento Ok? Bene, volevo solo dire questa cosa velocissima Che sono in pausa di lavoro Da Bianco Donnarumma ragazzi Vi saluto, un abbraccio e fino alla fine forza Juventus Comunque, sempre e comunque Ciao, aglio